Buongiorno, io sono Rondini Stefania, insegno al sistema moda quinto e insegno due materie di indirizzo, di azione e progettazione del prodotto moda e tecnologie dei materiali. Abbiamo iniziato questo percorso un po' come sfida perché le ragazze non avevano ovviamente mai avuto un approccio con gli anziani insegnando e quindi c'è stato un po' uno scambio di ruoli e devo dire che queste ragazze, come tutti gli altri, non solo la mia classe ma anche le altre classi, hanno aderito molto volentieri, si sono prodigate nell'insegnare a questi diciamo discenti over in maniera molto attenta e anche con una disponibilità che non pensavamo. Hanno partecipato molto volentieri e ci ha creato secondo me anche un rapporto che è servito un po' a scambiarsi tante esperienze e tante anche hanno avuto una capacità molto fattiva nell'andare avanti in questo percorso. Quindi mi auguro che rimarrà in loro questa sensazione di altruismo anche nei confronti dei ragazzi per gli over e nei confronti degli over per i ragazzi. Grazie a tutti.